Per quel che riguarda Matelica, un'altra delle nostre attività che abbiamo fatto crescere, con orgoglio questo, è una manifestazione per bambini che è iniziata con 20-30 bambini nel 2012, adesso siamo alla quinta edizione perché è un'edizione e non è stata possibile farla per il mattempo e la manifestazione si chiama Baby Garden Bike, che nasce come una manifestazione, una pedalata per bambini e quest'anno dopo 5 anni siamo arrivati a 210-205 bambini con tutte le famiglie, i nonni, una manifestazione bellissima che è stata additata e presa ad esempio anche dalla federezione a livello nazionale per il tipo di attività che ne abbiamo fatto e per come l'abbiamo organizzata. Dal punto di vista organizzativo, come vedete è stata una stagione piena, ma il punto cruciale di questa stagione del 2017 per il gruppo ciclistico-matelica è stata l'acquisizione di un importante settore giovanile da parte di un'altra società, una società che era in difficoltà la stava lasciando e abbiamo preso questa attività. Naturalmente è diventata l'attività più importante per il gruppo ciclistico-matelica, abbiamo curato tutti i giovanissimi da G1 a G6 e un bel gruppo di esordienti, abbiamo avuto diversi buonissimi risultati come la vittoria della maglia di campione provinciale fuoristrada e la vittoria, come sempre di categoria, per quel che riguarda le categorie esordenti, nel Bike Tour Coppa Marca. Si, lo stoppone è il talentino. Certamente, è un fiore all'occhiello per il gruppo ciclistico-matelica. Puntiamo su tutti, naturalmente non vogliamo creare il campione, ma vogliamo creare appassionati di ciclismo e su questo cercherebbero di lavorare in modo particolare. Come avete capito, è stata una stagione molto impegnativa. Adesso, questi ultimi mesi, lo dedichiamo un po' a noi, cerchiamo di rilassarci e magari buttare un occhio alla prossima stagione, come dicevo prima, Umberto. Mentre il ciclo cross prosegue con notevoli risultati.